Non ti fermare, Claudio, eh? Oh! Oh! Vai in dinastia! Oh! 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 C'è l'escritto, eh? C'è male? C'è male? C'è il giro? C'è? C'è una malattia rotta. Immuno? Sì, va, Mattino. Non fa il culo! Non è proprio fisso. I piatti si chiama Luca... Luca si chiama Fernando. No, Luca Bruciate. Si chiama Pasta la Fernando, quella che ti impula camminare. Vai, che ti sento gli altri chiesti. Dai, c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è, noi c'è. Non c'è minaccia. Non c'è, non c'è. Penta quella dietro che brucia, Paolo. Paolo brucia. causare? Brucia tutto. Noh. Le via assistano! Devo fare i predi da alcuni. Purifische, la ma di questa cosa! Ma la via... Adesso questo è Martino, il più sponso della cucina. realizzazione rispetto... Modernoica. Guardiamo il nostro chef! c'è la luce mamma mia com'è sta serio ma stiamo già in merda non ti preoccupare chef tutto sotto controllo ma lo riprendiamo fai un sorriso un po di pressione il nostro chef sta molto serio fai un sorriso e qua abbiamo Simona la pornostar della cucina fai un sorriso Simona ma è arrivato il camionista dell'N5 prende due piatti e va via fammi rivedere